Musica Questa è Euronews sera, ecco i titoli Era solo questione di tempo, Boris Johnson è il nuovo leader dei conservatori e il nuovo premio britannico, ex sindaco di Londra, ultra pro Brexit, ha battuto i suoi avversari Non ce l'ha fatta al primo voto il leader socialista spagnolo Pedro Sanchez a diventare premier di Spagna, Podemos si astiene e si tratta a oltranza, ma le urne non convengono a Pablo Iglesias Il Parlamento francese vota il CETA, l'accordo commerciale fra Canada e Unione Europea, ma il trattato divide il partito di Macron L'ex ministro degli esteri britannico Boris Johnson è stato eletto nuovo leader del partito conservatore con 92.153 preferenze contro i 46.656 voti ottenuti dall'altro candidato per la leadership, l'attuale ministro degli esteri Jeremy Hunt E adesso in molti trattengono il fiato per vedere come Boris gestirà lo spinoso dossier Brexit Il falco pro Brexit Boris Johnson è stato eletto nuovo leader dei tori 55 anni, ex ministro degli esteri e già sindaco di Londra ha stravinto la sfida con il suo successore al ministero, il 52enne Jeremy Hunt ottenendo oltre 92.000 voti contro gli oltre 46.000 dell'avversario nel ballottaggio affidato ai 160.000 iscritti del partito conservatore britannico Nel suo primo discorso Johnson ha abbandonato i toni oltransisti della campagna elettorale, parlando simbolicamente di riconciliazione Ancora una volta dobbiamo riconciliare due categorie di istinti, due nobili categorie di istinti, ovvero da una parte il profondo desiderio di amicizia e libero scambio e di sostegno reciproco nella sicurezza e nella difesa tra la Gran Bretagna e i nostri partner europei e simultaneamente il desiderio altrettanto profondo e sentito di un autogoverno democratico in questo paese e credo che sappiamo di poterlo fare, che il popolo di questo paese confida in noi per farlo e sappiamo che lo faremo Johnson ha poi ribadito l'intenzione di portare il Regno Unito fuori dall'Unione Europea entro il 31 ottobre assicurando di non aver paura della sfida Scuoteremo questo paese, dentro il 31 ottobre ultimeremo Brexit vogliamo approfittare di tutte le opportunità che il nostro senso di possibilità potrà portarci dobbiamo di nuovo credere in noi stessi e in ciò che possiamo realizzare e come un gigante addormentato ci alzeremo e sfonderemo questo soffitto oppressivo di dubbio e negatività Johnson assumerà da domani anche la guida del governo dopo che Theresa May avrà formalizzato le sue dimissioni davanti alla regina Elisabetta Forse non tutti sanno che il paladino della Brexit dura, Bruxelles la conosce benissimo La famiglia di Boris Johnson ha vissuto per anni nella capitale amministrativa d'Europa e lui stesso vi ha lavorato a lungo Boris Johnson conosce Bruxelles meglio di quanto possiate pensare non solo suo padre lavorava per le istituzioni europee ma Boris stesso dal 1989 al 1994 si è occupato di affari europei come corrispondente per il Daily Telegraph molti ritengono che i suoi racconti da Bruxelles abbiano contribuito a orientare l'opinione pubblica britannica abbiamo parlato con coloro che in quegli anni hanno condiviso con lui la sala stampa in questa professione bisogna essere seri ovviamente si può avere senso dell'umorismo l'ironia non è vietata ma bisogna tenersi ai fatti c'è un detto nel nostro mestiere i fatti sono sacri i commenti sono gratuiti nel lavoro di Boris Johnson c'erano molti commenti basati su pochissimi fatti e ciò non è cambiato quando è entrato in politica ascoltiamo la sua voce nella sala stampa dell'epoca e questo è l'uomo che ha dovuto affrontare le sue domande Bruno De Thomas era il portavoce principale della Commissione europea e lo ricorda ancora per il suo stile personale ma anche per il suo modo di fare giornalismo ricordo che Boris Johnson arrivò con la sua ciocca di capelli indisciplinati biondo chiaro con la sua spacciataggine, la sua intelligenza, il suo fascino, il suo umorismo e il suo gusto per la manipolazione proprio davanti alla Commissione europea c'è un pub punto di ritrovo per i giornalisti britannici il proprietario era lui stesso un giornalista del Daily Mirror, un tabloid ricorda come i giornali più seri fossero spesso obbligati a smentire le storie di Boris Johnson la mia impressione è che fosse un giornalista scandalistico che lavorava per un giornale serio si scontrava spesso con le persone del The Guardian, c'era un po' di rivalità ma non ricordo che Boris Johnson fosse particolarmente anti-europeo a quei tempi ciò che è certo è che contribuì a creare un'immagine di un'Unione Europea in contrasto con la sovranità nazionale britannica ora raccoglie ciò che ha seminato anni fa non sarà una passeggiata l'elezione di Pedro Sanchez a primo ministro di Spagna il primo voto è stata una fumata nera anche a causa dei dubbi degli alleati di Podemos che chiedono di più 124 voti, 123 del partito socialista e un voto del partito regionalista di Cantabria non ce l'ha fatta Pedro Sanchez a ottenere la fiducia del Parlamento per diventare primo ministro di Spagna si è fermato ben lontano dai 176 voti necessari al primo turno per farcela il partito unida a Podemos, alleato naturale dei socialisti, si è astenuto e le due forze continuano dunque a trattare in vista del secondo voto parlamentare quello di giovedì quando a Sanchez sarà sufficiente la maggioranza semplice per il secondo mandato alla Moncloa onorevoli visto che il candidato non ha raggiunto i voti necessari propongo un nuovo voto tra 48 ore annuncia il speaker dell'aula secondo la stampa spagnola il primo ministro in pectore potrebbe farcela giovedì e far così uscire il paese dal limbo in cui si trova ad aprile quando i socialisti hanno vinto le politiche senza però i numeri per governare senza alleati tra profonde divisioni l'assemblea nazionale francese ha approvato il CETA il controverso protocollo commerciale tra Unione Europea e Canada 266 voti a favore, 213 i contrari e 74 gli astenuti l'accordo economico e commerciale globale cancella i dazi doganali sul 98% dei prodotti scambiati tra le parti e fissa parametri di tutela dei prodotti agroalimentari più stringenti critici parte del mondo agricolo e le ONG che temono effetti negativi per le produzioni locali il documento è già stato ratificato da 13 paesi europei in Italia non è ancora arrivato all'esame del Parlamento Roma vanta un legame commerciale importante con l'economia canadese nel primo anno di applicazione dell'accordo provvisorio l'export italiano in Canada è complessivamente aumentato del 3,8% nel 2017 il Canada ha importato dall'Italia beni per oltre 8 miliardi di euro contro i quasi 2,5 miliardi di euro di beni canadesi importati dall'Italia frutto di sette anni di negoziati tra Unione Europea e Canada il trattato CETA è stato approvato dall'Europarlamento nel 2017 la sua attuale forma è però ancora provvisoria in attesa della ratifica da parte di tutti gli stati membri europei la Corea del Sud ha accusato la Russia di aver violato il suo spazio aereo sul mare del Giappone il viceambasciatore russo a Seoul è stato convocato d'urgenza presso il Ministero degli Esteri del Paese che ha espresso profonda preoccupazione per l'incidente la difesa russa ha però negato la violazione affermando che gli aerei accusati di aver sconfinato volavano in realtà in acque internazionali come riportato dai media martedì mattina i caccia sudcoreani sarebbero entrati in allarme dopo una violazione da parte di un velivolo russo l'aviazione coreana sostiene che i suoi piloti abbiano sparato razzi e oltre 300 colpi di avvertimento affermazioni che il Kremlin non ha confermato né smentito limitandosi a constatare come i sudcoreani avrebbero agito in modo non professionale senza prendere contatto prima di ingaggiare l'aereo in volo secondo Seoul inoltre due ore prima lo spazio aereo nazionale sarebbe stato violato da velivoli dell'aviazione militare cinese l'incidente si è verificato nella zona delle isole Tokdo, territorio conteso con il Giappone il cui esercito ha dichiarato di aver a sua volta portato in volo i suoi caccia l'hanno chiamata per anni la più grande bottega del mondo e forse la cosa è sfuggita di mano Barcellona è invasa da turisti e il centro si sta svuotando per lasciare spazio agli appartamenti proprio per turisti ma cosa ne pensano i cittadini catalani? Noi siamo andati a vedere è difficile camminare nel centro di Barcellona durante l'estate il turismo di massa è un tema presente in molte città europee ma probabilmente Barcellona è quella che ha il maggior numero di turisti per abitante circa 20 milioni di turisti visitano ogni anno Barcellona che conta su una popolazione di un milione e mezzo di persone in alcuni quartieri stanno scomparendo gli spagnoli il centro ha perso l'11% dei residenti in 4 anni che è rimasto si lamenta degli appartamenti affittati ai turisti gli autoctoni stanno lasciando il centro in parte perché molti appartamenti stanno cambiando l'uso da residenziale a turistico ma anche per le difficoltà di tutti i giorni, mobilità, acquisti, rumore e traffico è facile condividere la città con gli autoctoni recita questa pubblicità del Consiglio di Barcellona che promuove la coabitazione pacifica con i turisti le amministrazioni locali hanno anche creato un servizio di mediazione per risolvere i conflitti tra proprietari di casa e vicini la maggior parte dei conflitti si crea a causa delle feste notturne mobili che si spostano, sedi e sporcizie nelle aree comuni cattivo uso degli ascensori, dice questo mediatore come vedete da queste immagini non è difficile trovare la movida fino a tardi per strada o negli appartamenti affittati ai turisti che qualcuno possa mediare è cosa buona, dice questo cittadino avendo qui appartamenti affittati ai turisti poter parlare con loro e spiegare cosa ci dà fastidio è già qualcosa questo servizio di mediazione esiste da soli sei mesi e già a 400 casi pendenti in attesa di soluzione per alcuni esperti il turismo di massa porta solo ad un aggravamento dei problemi socio-economici della città e ci risiamo per il quarto anno consecutivo i Dallas Cowboys con pagine di NFL americana sono il club più ricco del mondo valutati 5 miliardi di dollari Forbes ha pubblicato l'annuale classifica dei team sportivi con la maggiore valutazione nel 2019 la soglia per entrare in classifica è 2.7 miliardi in aumento di 125 milioni rispetto all'anno scorso il Real Madrid è al terzo posto a 4 miliardi e 2 ed è la prima tra gli otto club di calcio nella top 50 il club spagnolo ha incassato oltre 100 milioni dopo aver vinto l'ultima Champions League un po' staccato il Barcellona che ha perso terreno a causa di un eccessivo monte ingaggio dei giocatori e il Manchester United che in Europa non vince da un po' staccatissimi i club italiani che non compaiono nella top 50 e concludiamo il nostro giornale con il racconto di uno strano lavoro quello di Patrick che deve cancellare gli apparati riproduttori che spuntano come funghi lungo il percorso del Tour de France non ci credete? il servizio Nella categoria dei lavori socialmente utili rientrano molte occupazioni quella di Patrick e del suo giovane collega è una di queste cancellare i disegni di apparati riproduttori maschili lungo il percorso del Tour de France sì perché di buon temponi è pieno il mondo e sebbene i francesi abbiano fama di non scandalizzarsi tanto facilmente non sarebbe bello che i disegni erotici venissero a turbare le riprese aeree dei ciclisti mentre magari si inerpicano su ripide salite o sudano sotto il sole estivo e così Patrick macina chilometri con il suo camioncino e tantissima vernice bianca per trasformare questi inni alla goliardia in disegni non vietati ai minori animaletti, uccellini ed altre figure che possano non distrarre o turbare i telespettatori della Gran Bucle Euronews sera finisce qui ma l'informazione continua sul nostro canale e sulle nostre reti sociali A presto A presto A presto A presto A presto